Gustiamo il gelato! Gustiamo adesso il tramonto a Lampedusa. Questo è il momento migliore che ho l'acqua tutta per me, faccio il bagno, l'acqua una tavola. Reguiamo il sentiero in pietra e ci rilassiamo. Abbiamo adesso tutta l'esperienza e ratezza possibile. Sonti per farci il bagno al topo. La mia postazione preferita è quella sulla scogliera per avere più vista. È bello notare quanto si ha il mare tutto per sé e uno può fare un bel rettilineo. Saluti da Lampedusa. Vi vediamo followers al prossimo video. Ciao e grazie. Seguidimi su TikTok e nel mio profilo Instagram. Dette like ai miei post e ci si vede su tutti i social. Commenta e mi raccomando condividi il video con gli amici.